Abbiamo visto che uno dei principi fondamentali dell'illuminismo era l'idea che tutti dovessero avere accesso al sapere, all'istruzione. Come fare però? Un gruppo di filosofi e di pensatori progettò la realizzazione di una enciclopedia. Dal 1751 al 1772 Diderot e d'Alembert radunarono scienziati, filosofi, scrittori, ingegneri, architetti per mettere per iscritto tutte le conoscenze dell'epoca e poi disegnatori e incisori perché illustrassero queste spiegazioni. Insomma un po' come una wikipedia del passato realizzata però tutta con carta e penna. Ne vennero fuori ben 33 volumi con tutte le informazioni ben organizzate in ordine alfabetico. 33 volumi a disposizione di tutti. Era un modo pratico, concreto per diffondere la conoscenza. Cosa si trova in questa enciclopedia? Si trova di tutto. Non lo so come erano tutte le calzature, i sandali, oppure come si faceva ad annodare il filo sul telaio, o delle tavole anatomiche per illustrare delle parti del corpo. Questi erano i disegni, ovviamente poi c'erano tutte le parti spiegate. Attenzione però, perché nell'enciclopedia non solo venivano spiegate le procedure tecniche, che so, come si costruisce un orologio, o come è fatto il nostro sistema nervoso. L'enciclopedia si proponeva qualcosa di più. Guardiamo come è fatto il frontespizio. In questo disegno è raffigurata la verità, raffigurata come una sorta di divinità, caratterizzata da questi raggi di luce. Di fianco a lei si trova la ragione, che sta tirando via il velo. Quindi la ragione svela la verità e la verità illumina le cose. Quindi, nell'enciclopedia non troviamo soltanto notizie tecniche e pratiche, ma troviamo anche delle riflessioni. Ad esempio, è ragionevole pensare che il potere scenda direttamente da Dio? Oppure, e la schiavitù è una vergogna la schiavitù. Eppure noi sappiamo bene che proprio in quel periodo le attività di tratta degli schiavi rendevano ricche moltissime persone. Insomma, queste riflessioni davano fastidio e non passarono certo inosservate. Infatti, Luigi XV censurò l'opera e tentò in tutti i modi di bloccarne la pubblicazione, arrivando addirittura a far bruciare i volumi che erano già stati stampati. Gli illuministi però non si arrendono e pubblicarono gli ultimi volumi in Svizzera. Riuscirono così a terminare l'opera, di cui furono vendute ben 25.000 copie, che per l'epoca era veramente una cifra enorme. Allora, conosciamo un pochino più da vicino i pensatori più rappresentativi di questo movimento. Il primo è sicuramente Voltaire, uno dei maggiori esponenti dell'illuminismo, il cui vero nome era François-Marie Rouet. Scrisse moltissime opere e collaborò alla stesura dell'enciclopedia. Era profondamente pacifista, contrario alle guerre. Pensava che i conflitti si potessero evitare mediante degli accordi che si basassero sul rispetto delle idee altrui. Una delle sue opere più famose è infatti il Trattato sulla tolleranza. A differenza degli altri illuministi, lui non credeva in un governo democratico o di tipo repubblicano, o meglio, pensava che i francesi non fossero ancora pronti per una cosa del genere. Era convinto che solo chi fosse stato istruito a dovere e avesse ricevuto l'illuminazione dei filosofi potesse governare bene. infatti, per carità, ammirava la monarchia inglese, però lui preferiva una monarchia illuminata, in cui il sovrano, che diciamocelo assomigliava tantissimo a un sovrano assoluto, secondo lui avrebbe governato tenendo come obiettivo principale la felicità del suo popolo e garantendo a tutti la libertà di pensiero e il rispetto delle opinioni. In questo dipinto era figurato alla corte del sovrano di Prussia, Federico II, dove fu ospite per parecchi mesi. Lui rappresentante del pensiero illuminista è Montesquieu. Il libro più rappresentativo del suo pensiero è Lo spirito delle leggi, nel quale Montesquieu espone le sue riflessioni politiche. Cosa fa? Prende in esame i tre tipi possibili di forme di governo, quindi la repubblica, la monarchia, il dispotismo. E poi ne individua i principi. Allora, alla base della repubblica abbiamo la virtù, perché la repubblica è una forma di governo in cui i cittadini mettono da parte gli interessi personali e virtuosamente appunto cercano di porre davanti a tutto l'interesse di tutta la società. Alla base invece della monarchia abbiamo l'onore. La prima preoccupazione di un sovrano è appunto la gloria e l'onore e purtroppo spesso un sovrano cerca di ottenere questo onore facendo delle guerre. Invece alla base del dispotismo c'è la paura. Il despota è colui che governa in modo assoluto togliendo e calpestando ogni diritto e quindi per tenere buona la popolazione può ricorrere solo ed esclusivamente alla paura e al terrore. In fondo il dispotismo non è altro che la monarchia assoluta francese dove c'è un uomo da solo al comando che decide su tutto e su tutti. Non solo. Montesquieu studiò anche il Bill of Rights inglese e propose un principio fondamentale che ancora oggi è il fondamento di ogni stato democratico cioè la separazione dei poteri. Cosa significa? Significa che i tre poteri per governare uno stato cioè il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario devono essere rigorosamente separati e devono essere gestiti da persone e da istituzioni diverse. In questo modo i tre poteri si controlleranno e sarà impossibile commettere delle ingiustizie. un altro rappresentante è Rousseau, un illuminista un pochino diverso dagli altri. Rousseau non era convinto che la storia dell'uomo avrebbe progredito automaticamente e si sarebbe risolto tutto, anzi al contrario. Esaminando la società lui si rende conto che la società è molto conflittuale e soprattutto questo dipende dalle differenze sociali che lui cerca di indagare nella sua opera intitolata discorso sull'origine della disuguaglianza, della disuguaglianza tra i ricchi e i poveri, tra quelli che sono potenti e quelli che sono deboli. Rousseau afferma che in questo tipo di società è impossibile realizzare la felicità. L'uomo secondo lui fu veramente felice solo all'inizio dei tempi, praticamente nell'era preistorica, perché viveva in armonia con la natura, si accontentava di quello che aveva e si impossessava soltanto di quello che gli serviva. Questo che lui chiama stato di natura viene meno quando l'uomo inventa l'agricoltura, la metallurgia, la divisione del lavoro. È da qui che nascono le differenze sociali e quindi i conflitti. Tornare allo stato di natura però è impossibile. Allora Rousseau propone un contratto sociale, cioè un accordo. Gli uomini dovrebbero mettersi d'accordo per rinunciare agli interessi esclusivamente personali e pensare agli interessi di tutti. In questo modo ciascuno avrebbe comunque il necessario e anche di più e le decisioni potrebbero essere prese insieme e sarebbero delle decisioni migliori. Gli illuministi però non erano solo francesi. Tra gli altri ricordiamo Cesare Beccaria di origini milanesi che divenne famoso per aver scritto un libro intitolato Dei delitti e delle pene. In questo scritto Beccaria denuncia la brutalità dei sistemi giudiziari, le violenze durante gli interrogatori, l'agonia pubblica e si propone soprattutto di dimostrare l'inutilità della pena di morte. Questo si trova all'inizio del suo scritto ed è un'immagine allegorica. Questa donna rappresenta la giustizia. Questo è un boia che ha in mano tre teste decapitate e qui ci sono tutti gli strumenti per la tortura e per i supplizi dell'epoca. L'atteggiamento della giustizia è di chi rifiuta questo modo di fare. Infatti Cesare Beccaria era convinto che la pena di morte non era un deterrente, non convinceva il malvivente a non commettere un'azione terribile. Non solo, ma c'era un'altra questione di principio molto grossa, perché in pratica lo Stato che voleva punire qualcuno che aveva commesso un omicidio non faceva altro che commettere un omicidio pubblico. E questo dà da pensare.